salve care amiche ed amici qui ancora una volta il vostro san ben chan e prima del video che passo a filmare che lo devo fare con il mio nokia asha 302 per filmare i dettagli e poi vedrete di che devo salutare un sacco di amici che mi hanno chiesto di salutarli allora prima di tutto saluto gli amici soli di giangallo naturalmente un primo saluto ma questa volta al nostro amico giangallo come non salutare il nostro amico gianfranco gallo che sicuro deve essere anche l'admin del gruppo mi sembra che forse lui mi ha invitato non mi ricordo che mi ha invitato nel gruppo comunque un saluto a davide lorenzo adriana carolina gerlando fiorenza gerlando fiorenza che dice di essere uno dei miei primi amminiatori quindi tanti auguri gerlando fiorenza alessio galassetti e ti chiedo scusa se l'altra volta ho pronunciato in modo equivoco il tuo nome ma è che l'avevo appuntato male infatti leggendo quali appunti l'avevo trascritto male invece ecco alessio alessio galassetti e saluti giochino orciuolo eugenia burona davide arcidiacono lorenzo quattro ciocchi ariana carolina bermudez federico suave jacopo castelletti jacopo castelletti ciao cristo eugenia ruggeri joseph steiner giulia battistotti saluto il mio parodista ufficiale domenico da ponte mari armeli domenica di stefano quindi saluti a mari armeli ea domenica di stefano e gianfranco gallo alessandro miani quindi un saluto a tutti gli amici soli di giangallo penso che ho letto bene di non aver fatto casini a voltare la pagina poi altri amici di facebook sebastian squazzine simone oggi già letto con sofia dai pedro ganzo michela trevisan figlio di pedro ganzo luiz corrado guallera riccardo guallera e sabrina guallera tutta la famiglia guallera ciao poi un saluto speciale a trotta antonio che già da mesi mi chiedeva ma quando fai un altro tutorial sui cellulari quindi al nostro amico di facebook trotta antonio un cordiale saluto e gli dedico questo video sui cellulari ho dovuto cambiare di braccio perché le reddiche non sono terminate e mi faceva male il braccio ho visto che c'è un supporto per cellulare e camera ma costa che non me lo posso permettere allora per quanto invece riguarda gli amici di youtube che mi commentano sempre video devo salutare francesco di nickname original crono del tiger freddy fosca loro pezze 1 poi poi sempre su youtube claudio wolf che non so se è anche presente come claudio show che il nostro amico claudio wolf è presente in sprecher in un canale che radio calcio dilettanti rcd in sprecher ma sarà presente anche come claudio show e claudio wolf in sprecher e poi naturalmente un mio amico di facebook tanto come claudio wolf che come claudio show quindi non me ne sono ricordato quando salutavo i miei amici di facebook ma adesso saluto il mio amico di facebook claudio wolf e claudio show che è presente in youtube come claudio wolf e come claudio show che trasmette i suoi brani anche in radio calcio dilettanti in sprecher rcd e poi che è presente come claudio show claudio world vabbè adesso basta con i saluti perché sennò ci faccio tutto un video di mezz'ora e vediamo al dunque veniamo al dunque perché era quello che volevo fare ebbene caro amico caro amico di facebook e forse anche di youtube trotta antonio antonio trotta finalmente ti ho accontentato erano messi interi che mi chiedevi se facevo un altro tutorial sui cellulari perché ti so grande appassionato di cellulari adesso ne faccio uno quindi te lo dedico a te antonio trotta come vedi qua ci troviamo di fronte a uno dei cellulari che ti piace collezionare è uscito nuovo mia madre l'ha comprato nuovo ma in pratica è una cineseria anche se dicono che è venuto da da nord america si tratta qua lo vedete nei dettagli non c'è 3g 2g bici alla linea gsm 850 900 1800 1900 dual sim 15 a per due targhette sim micro sim non nano sim c'è un display di 2,4 pollici carica una slot micro sd camera video formati di riproduzione mp3 acc vm wma w av player cioè può riprodurre tutto quello poi mp4 h 264 wm w player stereo fm radio bt gprs per la navigazione credo come vedete qua ma soprattutto come vedrete quando vi aprirò il cellulare diamo stesso con una mano ci riesco ecco qua naturalmente io ho già ho fatto il l'ho già provato cellulare quindi questo sarà un mettere enfasi sull'unpacking del cellulare che viene nella sua confezione scusate ogni tanto mi concentro su quello che faccio e non su quello che filmo vedete io già gli ho tolto le protezioni che venivano davanti e dietro per antigraffio si presenta molto bene col suo bordo argentato e già addirittura il protegge schermo contro i graffi che dice che puoi andare in facebook che c'è a 2,4 touch screen incredibile dice touch screen avete sentito bene ma non è un touch screen non so che intendono è una sola perché non è touch screen però c'è scritto touch screen se ci fate caso adesso tolgo il filmetto protettivo così lo vedrete da voi dice touch screen cioè si vede che una cineseria dove touch screen poi dice t flash sì però non è un flash che serve per la camera fotografica dice che c'è una batteria di alta qualità fm musica e yahoo e non ho accesso ancora ai servizi di internet perché sarà una bidonata allora mettiamo un po mettiamo un po da parte il cellulare qua troviamo subito il manualetto che è molto scarno non mettetelo nell'acqua non sputtate ci sopra queste cose qua non pisciate cinza e le chiamate di emergenza e queste robe qua che insomma poi viene l'alimentatore che come si può vedere la spina e tipo americana quindi dovete comprarvi un adattato un adattatore che costerà qualche euro poi c'è la batteria comune corrente e poi ci sono le cuffie cuffie che devo dire non sembrano cattive ma che sono economiche comunque adesso non staremo a provare le cuffie staremo a provare il cellulare come potete vedere è così fatto e dice made in cina io gli ho messo una targhetta di memoria di un una micro sd di un gigabit perché questo telefono non ha bisogno di molta memoria questo cellulare per fare dei video ne ho fatto uno di sette minuti e pesa più o meno non so se 7 megabit una cosa del genere o anche di meno quindi questa targhetta che ho di un gigabit in realtà è usata appare che ci sono 286 megabit disponibili e non e non un gigabit però per quello che consuma in memoria gli archivi che fa di foto e di video il cellulare più che sufficiente poi qua c'è spazio per due micro micro sim ma io ne ho messe solo una ne ho messa solo una e qua c'è la batteria messa la batteria andiamo ad accendere il cellulare bisogna schiacciare prologo prolungatamente il tasto power che non è il tasto di romina romina power e parte la schermata allora a questo punto bisogna come tutti voi sapete correggere determinate impostazioni allora mettiamo l'ora 12 40 non piglia il 40 a no perché la data la data la data è stato 14 3 2017 vediamo ok l'ora 12 facciamo 45 ok ecco qua il nostro cellulare come vedete è molto semplice navigare e ve lo dice il vostro capitan saint jean è un po come avere un lg kp 215 con gli steroidi adesso entriamo nel menu e vediamo che è molto facile navigare per le diciamo per le varie opzioni qua vediamo che abbiamo l'opzione camera l'unico inconveniente che non ho capito e che le foto le fa a 2 40 per 320 a prescindere di avere una camera che dice di essere di 1,3 megapixel le foto le fa a 2 40 per 320 comunque c'è un zoom che sembra essere buono perché ecco qua ha fatto una foto al tavolo dice che può ampliare otto volte pur facendo informato 240 per 320 ampli a 8 volte non so che cavolo ampli poi c'è il filmati che filma sempre in 240 per 320 però non c'è lo zoom non c'è lo zoom fa dei video 240 per 320 come il samsung galaxy young 53 60 però non non ha lo zoom è un'opzione molto interessante se si calcola se si calcola che io molte volte non riesco con il touch screen a rispondere una chiamata invece così in un momento anche l'emergenza avere uno di questi cellulari digiti subito e telefoni è un po scomodo mandare gli sms e soprattutto questo modello che non ha wifi e che non ha android perché ci sono dei modelli che hanno android e wifi sono un po difficili da navigare in internet proprio per un'urgenza altrimenti ti consumano la scheda prepaga quindi questo è tutto si fa un rumore al chiudersi ad aprirsi si apre con rumore si chiude con rumore e poi c'è una caratteristica che se voi entrate nel menu scegliete non so fra le applicazioni c'è la calcolatrice movistar allarma bluetooth potete trasferire dati per bluetooth poi c'è yahoo msn whatsapp e facebook io ho cercato di entrare in facebook e in yahoo ma mi dice che non si può collegare con il server forse perché già questa piattaforma che che sarà non so in java già non accetta più non è accettata più da facebook e da yahoo non so però potete avete il bluetooth non avete il wifi ma avete il cavolo del bluetooth quindi se voi fate un video 320 per 240 con una risoluzione come quella che ho caricato nel canale nel gruppo gli amici solidi giangallo cioè che ti filma di chiavi che poi poi trasferire il video con bluetooth in un motorola moto it seconda generazione e guardarlo certo che se già c'hai un cellulare così o come quello che uso per filmare perché guardare i video fatti con questo cellulare in un cellulare di qualità superiore ma vabbè hai la possibilità di farlo adesso che ho finito di fare questo video vi vorrei fare vedere qua si illumina una lucetta rossa come vedete gli ho messo l'adattatore e si è cessa la spia rossa per fare vedere che sta caricando e questo cellulare quando si sta caricando da spento o d'accesso quando d'accesso riceve sms vanno perdute chiamate accende spegne una luce che prima ho detto rossa no e bianca come vedete genius touch la marca e si accende la luce intermittente bianca per dirci che che si sta caricando ma questa stessa luce si può accendere spegnere anche quando è entrato un sms oppure quando si è persa una chiamata spero caro amico antonia trotta che questo nuovo tutorial sui cellulari ti sia piaciuto spero vi sia piaciuto a tutte e tutti voi non vi sto a salutare perché siete una trentina di persone che mi chiedete di salutarvi io vi penso sempre vi seguo però ho già fatto l'anteprima con i saluti allora vi ringrazio di seguirmi vi lascio così era da molto che non facevo un video ne faccio sempre di meno lo so ma grazie per continuarmi a seguirmi e soprattutto quelli che ho nominato se per favore condividono compartono il mio video per aiutare il mio canale a crescere ai loro amici e contatti in modo poi che possano dire guardate io guardo i video di uno youtuber che mi menziona nei suoi video così a casa fra amici e conoscenti parenti fate vedere i miei video e magari che loro anche diffondano i miei video ad altri poi non so se volete pure fare vedere ai vostri nemici i miei video per me ne dallo stesso quindi un saluto dal vostro san ten chan mi raccomando alla prossima grazie di continuare a seguirmi e da presto ciao e spero che questo nuovo tutorial dopo tanto tempo faccio un nuovo tutorial vi sia piaciuto fatemelo sapere nei commentari e soprattutto mi raccomando non commentate solo i miei video in facebook commentate lì in youtube mettete like in youtube e compartite da youtube in facebook eccetera e poi nel spa nello spazio di discussioni del mio canale se potete discutiti aprite una discussione ciao grazie a tutti grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti